Ciao a tutti, sono Good, sono un disegnatore di fumetti, racconto storie a fumetti, quindi con questi disegni che si muovono in sequenza e oggi vi volevo invitare a fare una passeggiata. Voi direte, ah come non si può uscire di casa e ci inviti a fare una passeggiata? Sì, vi invito a fare una passeggiata nel Parco archeologico dell'Appia Antica, leggendo il fumetto che ho realizzato, che è una storia di questi tre bambini, come protagonista di questi tre bambini, che fanno una passeggiata e vivono un'avventura abbastanza interessante e divertente. Questa avventura la potrete vivere perché per oggi questo fumetto è in lettura gratuita online. Certo, non è esattamente come prendere una bicicletta e andare a pedalare sull'Appia Antica, però è già qualcosa. Quindi buona lettura e ci vediamo presto. Ciao